E what's up a tutti c'è ormai e benvenuti raggiocherini in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su Plague Tale Requiem Beh ragazzi io direi che magari per questo finale, qualunque esso sia, potremo cercare di raggiungere almeno i 50 like Perché molto probabilmente comunque sia il finale che il gioco in generale se li meriteranno e come Io non so spiegarvi ragazzi a parole lo stato d'animo in cui sono attualmente So che magari molti potrebbero trovarmi esagerata però sinceramente sti cazzi come al solito Perché? Perché già dopo quello che abbiamo visto le ultime volte e dopo tutti gli avvertimenti che mi avete dato ragazzi Sono seriamente preoccupata, sono molto in ansia riguardo quello che ancora mi sta tenendo nascosto questo gioco Un finale che molto probabilmente ragazzi sarà inaspettato Perché fino ad ora spesso sono accadute cose che minimamente non mi aspettavo E quindi penso che minimamente non posso neanche lontanamente immaginare cosa mi riserverà Il finale di questo gioco, siamo agli ultimi capitoli Abbiamo appena iniziato il capitolo 15, ne dovrebbero essere 17 da quello che mi avete fatto capire Solo che gli ultimi due soprattutto saranno molto molto brevi Quindi ergo è molto probabile che questo appunto sarà l'ultimo episodio di questa serie Anche se dovesse ragazzi dilungarsi un pochettino io direi a questo punto di giocare tutto Tutto quanto senza interromperci di nuovo Goderci appieno, se posso usare questo termine, non so forse cambierò idea a fine video Le ultime esperienze che questo videogioco può regalarci Probabilmente non sono pronta a quello che il gioco ci sta riservando La situazione è questa Purtroppo il conte ha preso Lugo Quindi Emisa e suo fratello sono stati separati Come vi dicevo la scorsa volta a fine video Bersi questa è una buona notizia ma Ho paura che Probabilmente ragazzi il portatore e la protetta Dicevo temo che il destino del portatore e della sua protettrice Forse possa essere solo uno Spero sinceramente di sbagliarmi Perché purtroppo Aelia ragazzi è morta Cercando di salvare suo fratello Visto che erano stati separati Ed è quello che è successo ad Emisa e Yugo E questa cosa mi preoccupa non poco Non è più più via Il ne naviguere più mai Un bateau si è remplice C'è la mer che conta il più per Sofia Tu comprends? Concentre-toi su il più importante Avant di lo perdere Grazie pure Arnaud un gran bel personaggio ragazzi e già qua? Prends l'agricultazione e che il si no il rigore che il si no il dovrebbe bruner io mi occupi di lui C'est hors de question Ecoute-moi un peu tête de mule Che tu puissas sauver ton frère Che vais lui faire avouer UeHugo Couvre mes arrières et reste en vie Ce chien de sa voix temo che sarà un momento poco piacevole questo ragazzi allora fermi dobbiamo stare concentrati appena detto ho troppa paura ragazzi di quello che avverrà non sono tanto concentrata se la devo dire tutta e che belle come sempre queste colonne sono questa colonna sonora allora è questo deve oh cazzo niente deve saltare in aria ecco via foto ragazzi sta succedendo il delirio il delirio va bene ecco potevo evitare di usare un dardo infuocato oh oh è quello grosso è quello grosso ora sono cazzi amari era proprio quello che temevo era proprio quello che temevo ma tu guarda un po' sta fermo stronzetto cazzo è dietro dietro ok gli è saltata gli è saltata gli è saltata non 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 marseille oh dio ti ha amenato l'enfant a marseille après ce qu'il ha fatto a ta f*** la ferme io vorrei le necessario madonna ragazzi madonna ragazzi allora era proprio quello che era proprio quello che non doveva succedere era proprio quello che non doveva succedere jugo si è reso alla macula questa non è una buona notizia ma proprio per niente ma proprio per niente porca di quella miseria perché perché l'hanno separato da sua sorella i bastardi ecco perché mannaggia la miseria mannaggia ti vedo bastardo di merda muori pure tu grazie oddio che non vedo manco che nemici ci stanno avendo incontro ragazzi oddio oddio dai non voglio morire adesso eh no no è che non vedo non vedo niente non vedo che nemici stanno arrivando ok questo mi sa che è corazzato quindi non possiamo fargli nulla oddio ok ovviamente c'è là dietro no il gancetto del cazzo ok 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 perfetto almeno è saltato in aria questo stronzo no 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 ma dai ma no ma perché 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 mannaggia la puttana marnaggia qu'est ce che je peux faire arrête de peupler 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 C'est un buon p'tit gars. E tu? Je sais. Tu? Ovviamente, ovviamente, no? Ovviamente. Jolico, vieille imbécile. On te doit tous, beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence. Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance. Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les reines. Il faut bien que je m'occupe. C'est pas libre. Combien de temps jusqu'à Parseille? Pas tant que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien? Non. J'aurais pu... J'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort du comte! Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne laisserai pas être mort pour rien. Tout mon vit où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. Qu'est quoi, Yolala? C'est tout un peu un coignone. Wow. Ce genre de signe? Oui. C'est lui. Mais ce n'est pas de très bonne augure. Oh, Dieu. C'est quoi ce bruit? C'est... ça vient de la ville? Ça vient du sol! Oh, Dieu. On la trouve? On file. Fourez! Il s'est passé une chose terrible en ville! Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Fuyez dans les collines! Non! Non, vers la mer! Trouvons une barque! C'est quoi, ces secousses? Les portes de l'enfer se sont ouvertes! Marseille est perdue! C'est... C'est le champ ultime de la Macula. Maman! Il faut faire demi-tour! Il faut retrouver Maman! Lève-toi! Je t'en supplie! Lève-toi! Je veux pas! Ma chambre! Il faut! On a besoin de plus de monde! Des chutes, etc! Parseille! Ils sont en train de barricader la porte! Pourquoi? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Oh, Dieu! Ils sont encore à l'intérieur! Ils sont déjà morts! Continue! Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre porte plus loin! Mais ces bottes de paille sont sur le chemin! Attendez! On a ce canon! Tu sais t'en servir? Je n'en sais rien! Attends! Tu pousses là? Ça devrait être ça? Je... J'ai compris! Alors vas-y! Alors vas-y! J'ai remuto l'E2 per mirare e l'E2 per fare fuoco Ok Madonna! Ok Quindi possiamo andare Allons-y, Sophia! C'est parti! Oh, Jesus! C'est parti! Oh, J'ai remuto! C'est parti! Parco-cari! Quella poupa-ca! Oh! Non lo voglio immaginare! No! Oh! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio, ragazzi! Un oceano, un oceano! Oh, Dio! Oh, mio Dio! Oh, certo! Oh, certo! Oh, mio Dio! Cioè, il suo pensiero è ancora lui, ci sta poco da fare. Oh, no! Oh, mio Dio! E'ok, mi Dio? A tu, mi Dio? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Non conosco Marseille! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Il s'agirà di questa settimana! Allora, trovi mon frère Oddio E qua inizia il capitolo 16 Re Yugo Il re di che? Cioè, come lo troveremo? A sto punto delle cose Lui pensa ovviamente che Emisia sia morta Ma mi chiedo se ormai Il rivederla possa servire a qualcosa Cioè, se è troppo tardi Oh Luca Je veux te dire Que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde Je n'en sais rien Mais Vous êtes ma famille Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin? Vous avez encore plein d'années devant vous Allora restez en vie C'est un ordre Compris? Che sono tutti personaggi ragazzi adorabili Il doit vivre Il mérite tellement mieux que ce qui lui arrive Maintenant Fais attention à toi C'è Tutti Tutti Lucas Arnaud Sophia Tutti personaggi assolutamente adorabili C'è Dal mio punto di vista Oh 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 Ho capito Ma in questo caso Non stiamo parlando di un gioco Non è più un gioco Listo Ma dov'è Yugo? C'è raga Ha devastato tutta la città Non so se ci rendiamo conto Regardez qui sont les sortis Ennuyé C'est la première fleur qui vous a manqué Juste avant contre rencontre Lucas Je me sens vieux maintenant Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire Oui Lo spero Dipende da come lo troviamo Cristo Ho paura raga Ho paura Per il momento in cui E' uguale a quello che è successo a Basilius E' il fulcro di tutto Come ci entriamo lì? E' terribile Désolée C'est pas grave Je me suis assez amusée j'imagine Et mon bateau est fichu de toute façon Dis-moi seulement si on a une chance Si on arrive jusqu'à lui peut-être Mais ce sera une longue plongée Ecoutez J'y vais C'est à moi de... Amesia Nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde Et nous sommes tous liés à lui Alors on plonge Alors on plonge Oh, Dieu, 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 Dieu Porcaccia miseriaccia Dov'è Lucas? Dov'è Lucas? No, no, è giusto Ok Cazzo Non è accaduta del genere Devi essere fortuna da non romperti niente Sì, non sono perfetta per la terra ferma Per quanto riguarda l'atterrissaggio, è ancora peggio Scusate Non ti scusate Tu ci hai molto aiutato Lucas e io Abbiamo già fatto questo Non ci sono Poveraccia c'è Pure Sofia Cioè chi glielo faceva fare Chi glielo faceva fare Pure Ha avuto il cuore così grande Da accompagnarci Cioè raga In tutto il nostro percorso È una persona meravigliosa Pure Sofia Quindi toccherà a me e a Lucas Oh C'è C'è un toto L'abbessia Chousa Eh 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 L'abbassà Il n'y a plus que nous deux Maintenant On peut y arriver Tu vois Elle pendre le mur Toujours debout en contrebas Véral Tout tourne On se peut jouer là-bas Oui Attends Attends À la moindre erreur L'abbassà Follia Mais j'ai compté Et ils ont toujours Le même rythme On peut tenter le coup Entre deux vagues È follia questa cosa Ok Oddio, raga, è terrificante È dannatamente terrificante Cristo Vai Oddio, non ce la faremo Non ce la faremo Non ce la faremo Oddio, 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 oddio Ok, mi sa che dobbiamo arrivare Qui in fondo, credo Oh, vabbia, raga Cazzo se fa paura Corri, 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 corri Non è qua Mi sa proprio che non è lì È terrificante, ragazzi Veramente Cioè, l'hanno fatto talmente bene Che fa troppa paura, cavolo Ma forse è quel muro prima Forse è quel muro prima Ok, ok, vai Corriamo, 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 corriamo Prima, fino a qua, forse Fino a qua, fino a qua Mia Terribile Suppongo poi che dovremmo arrivare fin lì È l'unico muro che abbiamo più avanti Mi chiedo come arriveremo fino a Yugo Perché fino a lì non ci sono muri Che ci salvano il culo, eh Capitati Via Oddio, crolla tutto, cazzo Resta qua, di cazzo Ok, l'hanno spaccaverati Ok Ok La spaccheranno loro, ovviamente Ok Via Ok, mi ha appena salvato la partita Oh no, oh no Corri Lucas, cazzo No No ragazzi, è follia È follia pure È follia pure È follia pure È follia È follia È follia Qua 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 Mamma mia Come fanno ancora resistere Ste macerie Di qua, di qua, di qua Veloce Ok Cioè Quanto è fatto bene ragazzi Sto perso Quanto è fatto bene Oh Cazzo No, non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Sta crollando tutto Oh, corri cavolo Regà, Yugo è là dentro Non c'è il suo cuore Non c'è il suo cuore Il è là, Luca Il Regarde-toi Caché sous une couverture Comme quand t'étais triste La nébula se condense autour de lui Ça doit être terrifiant Là-dedans Tu sais ce qu'on va y trouver ? Difficile à dire Et c'est d'imaginer un creuset géant Où la macula, Yugo et la nébula ne font qu'un Les visions d'un enfant trahi Qui s'évapore dans l'atmosphère Et change le monde C'est ça le dernier seuil Les lois de la nature n'ont plus cours Alors on doit le traverser aussi Pour attendre ton frère, oui D'accord Respire un grand coup Comment tu sais ? Commeกwerot n'ab Hazard Non c'est pas Canva bien Non c'est pas Ya Non c'est pas Le dispiad Floor Io ho paura, ragazzi, di quello che troveremo. Luca! Luca! Dov'è? Siamo scesi insieme. Dov'è Luca, asso? Luca! A sedere. Luca! O è tu? Oh, ho la tête. Chi torna? Raga, che angoscia. Ta priorità, c'è Hugo. Trove-le. Angoscia, che desolazione. Tutto sto posto. Ma dov'è Luca? Luca, c'è moi! Perché è sparito? Sui là! Chi è tu? Spera, spera che lo senta, che la senta, ma... Che c'è? No, ma... È possibile. Cos'è? La Fenice? Un Fenyx? Ici? Quest'aria così, mamma mia, me dà proprio la sensazione di un'aria pesante. Proprio che... Non respiri. Rega. La Fenice ci sta indicando la via. Ma perché è così? Cioè, perché? Perché la Fenice poi, tra l'altro? Cioè, lui l'aveva sognata. Lui l'aveva sognata che... Cioè, lo portava... Nel posto che l'avrebbe salvato. Ma perché sono sempre più grandi? Ma che cazzo è? Forse ha le allucinazioni che ha? Non, c'est toi qui fais ça? Oddio ragazzi, è tutto troppo angosciante. Les lois de la nature n'ont plus cours. Oui. Raccroche-toi à ça. Non ce ne la posso fare, mamma mia. Est-ce que... c'est toi qui les as mis là, Hugo? Non. C'est toi. Hugo! Oh, merci, Seigneur! Où es-tu? Je suis là. Tout proche. Dova, Dova, Dova... Dova... Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oisons ici. Ils montrent la voie, n'est-ce pas? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement. Il y avait une part de vérité. C'était un mensonge. Et ça a apporté la mort. Ce sont les gens qui l'ont apporté. Hugo, je dois trouver une voie pour te sortir d'ici. Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé. Mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. Je... Je... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Donc, il s'envoie, Amicia. Il s'envoie, Amicia. Il est forcément tout près. Donc, il n'est-ce pas la Fenice qui nous indique la route? Oh, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il s'envoie, c'est la route qui est à suivre. Infatti, il y a une nouvelle voie. De nouvelles voies. Pourquoi tu continues à suivre ces oiseaux? Je suis perdue, Hugo. Je ne sais pas quoi faire. Cet endroit appartient au passé. Quitte-le. Trouve ta propre voie. Oui. C'est ça, je pense. Continue. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens. Je sais que tu es perdue et effrayée. Mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux te voir. Qu'est-ce que c'est ? Hugo ! Où tu es ? Ma che cazzo è ? Non ! No ! Non, non ! Allez, vous n'allez ! Hugo ! Oh, Dieu ! C'est quoi ça ? Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, Dieu ! Vous n'êtes toujours que de sales rats ! Je vous prendrai tous ! Vous croyez que je vais m'enfuir ? Je repartirai avec lui ! Vous m'entendez ? Je t'ai vu te battre tellement souvent. Ne t'inquiète pas ! Je vais les avoir ! Tu ne vas jamais arrêter de te battre, hein ? C'est eux ou nous ! Je n'ai pas le choix ! Si, tu as le choix. Mais ça te fait peur. Ils sont trop nombreux, Alicia. Non ! Mais pas pour moi ! Et ça me fait mal de devoir te battre comme ça ! Comme quoi ? Comme avant ! Comme quand chaque battle est comptée ! Récompte toujours ! Récompte ! Récompte ! Non, regarde ! Je vais les avancer ! Ils s'arrêteront pas ! Arrête de jouer les durs ! Ça ne te réussit pas ! Tu te souviens ? Il faut que je sois Dieu ! Mais je peux pas ! Non ! Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non ! Je suis... Je suis revenu en arrière ! Hugo ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es coincé dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur. Je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Oui ! Je vais réessayer ! Je vais apprendre ! Et... Ça doit marcher de la même façon ! Il faut que je retourne ! Et donc, je dois suivre les durs ! Une sortie ! Je dois trouver cette sortie ! Lors de ces oiseaux ! Avance en ligne droite ! Tu vas y arriver ! Il problema... È che Hugo... Parla come se... Si fosse ormai arreso al suo destino. Sembrerebbe. È solo che lei ovviamente non vuole mollare la presa. E fino all'ultimo ragazzi. Grida che se lo riprenderà. Che se lo riprenderà. Tu y arrives. Tu la prends. Tu la prends. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Non ! Ces choses sont tuées. Non c'est pas. Non c'est pas. Applique toi ! Che devo fare ? Non c'est pas. Non c'est pas. Tu dois être plus rapide. Oddio, che vuol dire ? Il bracciere non li fermerà. Deve essere più veloce. Che significa ? C'est pas encore. Il continue de me dire ! Oui. Parce que tu as besoin de... Tu as besoin d'une excuse pour te battre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Te battre veut dire que tu peux gagner, mais... La vérité c'est que... Ce n'est plus le moment de se battre, Amicia. Il faut que tu acceptes ça. Quoi ? No. No. Je ne peux pas. Il faut venir de moi. C'est ton espoir... De pouvoir régler les choses comme avant. Comme cette flamme... Qui fonctionnait autrefois. Il se trouve pas, Evan ! Comment je l'arrête ? Montre-leur que tu as compris. C'est pas ? Ils m'attraperont encore ! Il doit y avoir un moyen ! C'est le cas. Quelque chose que tu n'as pas déjà tenté. Leur montrer que j'ai compris. Oui ! Mais de... Non ! Non ! Non ! Non ! Encore ces motifs, Fénix ! Réfléchis, bon sang ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne sois pas si dur avec toi-même. C'est pas facile, c'est tout. Mais tu vois plus clair maintenant. Tu as appris. Oui ! J'irai jusqu'au bout ! Je sais. Et donc, je dois faire ? C'est ce que je dois faire ? C'est ce que je dois faire ? Allez ! Je dois retourner ! Allez ! Et lui continue à dire, pourquoi il continue à combattre ? Pourquoi ? Tu dois rendre à l'idée que non serve plus à rien. Que tu ne peux plus ajuster les choses comme tu faisais avant. Ce n'est pas encore plus ? Je towards arriver. Je les remmener ! Insomma, ces scenarios sont... ... ... C'est pas cela Year- Superman qui, j'ai cette... ... ... enormi lo devo spegnere lo devo spegnere l'abandonne j'en ai assez de tout ça assez de me battre s'il te plaît j'ai besoin de te voir je suis fière de toi où es-tu je suis là hugo viens j'ai cru que je te referais jamais moi aussi j'ai tellement peur métier arrivé tu peux marcher oui tu sais comment sortir d'ici oui suis-moi allons-y qu'est-ce qu'on a pensé ma sensation quittons cet enfer d'une façon ou d'une autre amicia je croyais que tu étais morte j'ai vraiment cru je sais j'ai cru que que j'étais tout seul alors j'ai fait une bêtise hugo on a fait tout ce qu'on a pu mais c'est une grosse bêtise plein de gens meurent maintenant je le sais on va on va cet endroit me dit quelque chose la sortie est par là tout au bout bonjour est-ce qu'on peut vous aider bonjour je vous ai déjà vu hé qu'est-ce qui vous arrive c'est le garçon il l'a tué je suis désolée tué mais quoi comment qu'est-ce qu'il se passe c'est vrai c'est moi qui l'ai fait comment c'est la bêtise que j'ai faite c'est ce que je suis devenue ne restons pas là viens on doit arranger ça amicia on va trouver une solution mais d'abord il faut partir d'ici oui regarde les il y a il y a il y a il y a une péssima sensation ragazzi j'aimais tellement cet endroit et ces gens tu dois arrêter ça mais je peux pas concentre toi tu l'as déjà fait tu as déjà tout oublié c'est un mensonge c'est la macula qui nous joue des tours je suis la macula maintenant c'est moi quoi non tu savais que ça pouvait arriver c'est trop tard non 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 j'ai laissé la macula prendre toute la place et voilà ce qui se passe je je sais on doit faire quelque chose il faut empêcher les gens de mourir peut-être que si on s'en va ça s'arrêtera non ragazzi non et vi prego que non sia quello que pense ça peut s'arrêter je les mange amicia pas seulement eux mais tous les autres aussi et toujours plus à mesure que les races répandent alors c'est la fin pas encore il nous reste une chance la toute dernière dis moi je ferai n'importe quoi je crois que tu le sais déjà je tu dois m'arrêter pour arrêter la macula Hugo tu peux pas me demander ça tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre tu n'es pas un monstre je vais le devenir si je tue tout ce que j'aime toutes les belles choses que tu m'as montré je comprends mais s'il te plaît je je vais essayer oh 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 No, non può essere, no, non può essere, no, 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 ragazzi, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non su o on no Oh Dio, oh Dio, oh Dio. Amicia, on y è. Non, non, non. Ma voi state scherzando, no. Oh Dio, no. Oh Dio, no. Oh Dio. Amicia. Je sais. No. Come posso farlo, come posso. Non, non. Oh Dio ragazzi, non. Non. Oh mio Dio Che figlie di puttana Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile Oddio Oddio Che cosa terribile Che cosa terribile Io credo che questa sia stata una delle cose più terribili Che io abbia mai fatto In un videogioco ragazzi Oddio che cosa terribile Che cosa terribile Che cosa terribile Ciao Sì. 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 Sòpia. Tu es venue. Bien sûr. Io non ci Blair su Grazie a tutti, se hai bisogno di più di tempo. Allons-y. Come ti voglio. Mi ha lasciato più alto. Allora? Che hai fatto questi ultimi mesi anni? Io faccio, io ripare la casa. E' cerchare di m'appuisi. E ci funziona? Ci funziona meglio. Bene. Io mi sono molto inquieta, tu sai. Io vengo bene, Sofia. Ci fa un anno. Oui, già. E come vengono le affaire? C'è bene. Io faccio nel commercio legale, questi anni. Oh, come si fai? Eh bien, io voglio vivere più lungo. Ah, sì? Io prefero una mer d'huile a una tempate. A propos, on lève l'encre demain. Parfait. Parfait. E il nostro alchimista viene? Luca? Oh, non. Il è ancora sulla route. A studiare. Tutti se? Il grandisce si vite. Il en aveva bisogno. Ça se rafraggia. Attendo le pas, ça ne raffafferà. Allora, tu sais vers quel rivage tu veux qu'on t'emmène? Pas ancora. Mais, je pense que je le saurai quand je croiserai les signes. De la macula? Oui. Elle laisse des marques sur les choses et les gens. Je pense pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs verront le jour. Le prochain fléau. Je veux leur montrer la voie. Comme Aelia l'a fait pour nous. Inutile que je te dise de trop oser, alors. Exact. Très bien. Oh, ça sent si bon. Et ce silence. Oui. Ça va me manquer. On arrive. Les gars, voici Amicia. Soyez gentils. C'est un grand jour. Salut. Tu peux m'attendre un peu? J'ai une dernière chose à faire. Vas-y, je ne suis pas pressée. J'ai encore mal au dos avec cette route. Pas de tempête en vue? Je n'en vois aucune à part toi. Ça ne prendra pas longtemps. Ça va aller. Ça va aller. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée. mancano niente da dire sinceramente se non che questo paesaggio è meraviglioso per cui portiamo Demis in cima in cima il suo obiettivo attuale è quello di cercare che il prossimo portatore è la prossima protettrice non vivano praticamente lo stesso drama quindi le fa anche tanto onore questa buona c'è me è arrivata Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'étais pas sûre d'être prête, mais Sophia est là. Je suis désolée. Pourquoi c'est si dur ? On n'a jamais abandonné, Pavan. On a tenu. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver. Moi, je m'en souviens. Et je ne laisserai personne l'oublier. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Io credo di poter affermare con convinzione Che quella che mi ha dato Plague Tale Requiem Sia stata una delle esperienze videoludiche Più coinvolgenti e strazianti Che io abbia mai giocato Veramente non riesco a comprendere tutte quelle persone Quei giocatori che lo hanno giocato E l'hanno ritenuto un videogame fin troppo noioso Un videogame che non sa di niente Io non veramente non riesco a capire questi pareri ragazzi Perché credo che questo videogioco meriti veramente tanto Veramente tanto perché racconta una esperienza Che tutti quanti dovrebbero fare probabilmente Per quanto straziante e insopportabile sia alla fine Poi lo sapete sono fin troppo sensibile ed emotiva Quindi mi lascio coinvolgere fin troppo no? Forse dalle esperienze videoludiche Ma vi dirò che sono contenta comunque di questo Perché questo mio aspetto mi permette comunque di godere Fino in fondo di certe esperienze E di certi messaggi E il modo in cui si è conclusa questa storia Come vi dicevo prima Sì probabilmente Una delle cose più strazianti ragazzi Che io abbia mai incontrato In un videogioco E il fatto che io mi sia sentita così coinvolta Significa che L'esperienza è stata costruita bene Perché sennò probabilmente Non mi avrebbe fatto né caldo né freddo Quindi significa che comunque Mi ero affezionata A tal punto A questi personaggi Da restarci veramente male Insomma per quello Che stavo vedendo E infatti così è stato A maggior ragione ragazzi Veramente per come l'hanno L'hanno costruito Che alla fine Ha dovuto essere Emissia A farlo Perché era l'unica ormai Che poteva farlo Il fatto di doversi arrendere Alla fine delle cose Perché non c'era più niente da fare Cioè E rega È stato Un insieme Di Di vicende Di emozioni Talmente fatto bene Che se riesci a farti coinvolgere Ti straccia dentro Veramente ragazzi A me mi ha fatto Un buco qua Veramente Un buco enorme Perché Non mi aspettavo Una cosa del genere Quindi Come non mi aspettavo Poi Il fatto Che sarebbero Precipitate le cose Così repentinamente No Perché appunto Ci sono tanti momenti Nel gioco In cui Ti sembra Che vada tutto bene Che sia tutto sotto controllo Ma ovviamente È tutta una cosa Di facciata Una cosa fittizia Una Una sensazione Falsa No E poi Ti ributtano Nella cruda Verità Senza alcuna pietà E così Da un momento all'altro Succedono cose Che non ti aspetteresti E che ti fanno Restare male Quindi che dire Ragazzi Lo sapete che io Quando finisco una serie Esprimo sempre un parere Un po' generico Sul gioco Ma penso che Quello che ho detto Già Abbia spiegato Quello che penso Di questo videogame Credo che sia Un'esperienza Videolulica Meravigliosa A tutti gli effetti Secondo me anche Migliore del primo Ragazzi Da tutti i punti di vista È meraviglioso Dal punto di vista Grafico Ragazzi Perché hanno fatto Un lavoro Veramente stupendo È meraviglioso Dal punto di vista Della colonna sonora Che molto probabilmente Appunto Meritava Un premio Secondo me È meraviglioso Dal punto di vista Della storia Voi lo sapete Quanto sia importante Premere la storia Ragazzi In un videogioco Il gameplay È quello che è Comunque hanno mantenuto Le meccaniche Ovviamente che c'erano Nel primo Hanno migliorato qualcosa Io non l'ho trovato Comunque mai noioso Fondamentalmente Neanche Cioè In nessun momento Da nessun punto di vista Per non parlare Poi comunque Dalla costruzione Dei personaggi Tutti bellissimi Tutti Ben caratterizzati Cioè Ragazzi Io penso Che non ci siano Tante altre parole Da spendere Su questo gioco Io mi sento Di dargli Il voto massimo Sinceramente Un'esperienza Che consiglierei A chiunque Ok Come sempre Ho atteso La fine Dei titoli Di coda Che ci state Preannunciando Ci stanno Preannunciando Qualcos'altro Dopo Dopo Requiem Non so Se avrò il coraggio Di giocare Altro Della La mia storia Da videogiocatrice Fino ad ora Perché Queste poi Sono esperienze Ragazzi Che mi lasciano Qualcosa Mi lasciano Un segno Magari E questo gioco Mi ha lasciato Un segno Direi Ben profondo Quindi Direi che rientra Nella mia Top Non lo so Dei videogiochi Più belli E delle esperienze Videoludiche Mai fatte Come sempre Ragazzi Aspetto I vostri pareri Qua sotto In commento Ricordatevi Di sfondare Questo video Di mi piace Ragazzi Per questo Finale Assolutamente Incredibile Questo video E questa serie Terminano qui Un bacione Io buddash A tutti i ragazzi Da giocherino Ciao